Una bella pizza, ci sta proprio a uno yogurt, per l'autonomasi hanno gli yogurt greco, venite con me di posto la prosa e il muro. Per l'autonomo, ci stiamo facendo la possibilità di mettere l'acqua, noi abbiamo testato già i piccolini, le palettine e c'è la possibilità di mettere l'acqua, noi invece andiamo a mettere l'acqua e la posizione. Abbiamo il sguaglio, il panossi, il yogurt di assico, il cioccolato, la vaniglia e quello. Aspetta piccola, diciamo separati già, tra sì, il yogurt. Questa è una bella pizza. E poi, questa è una bella pizza. E poi, questa è una bella pizza. Cilevo, bumbani, cioccolate, noeno, panossi. Colas, cocomut, cheesecake, latte di yogurt. C'è veramente schifo. E queste sono spaghetti di cioccolato, eh? Come il kilos. Spaghetti di cioccolato. Guarda quante cose sono. Andiamo sulla frutta, guarda. Mi ispira moltissimo. Questo mix berry. C'è mix frutta, apple, soy berry, cereali, cilenge, cagliette di cocco. Guardate qui. C'è veramente da diventirsi. Mi sento come una pipa ad una patta. Caramello. E gli ecchi di cioccolato. Cioccolato, cioccolato, buoni. Ce li mettiamo dei cioccolato. Adesso facciamo uno schifo. Ma tanto la cucina di piti è godi ancora. E poi ci sono i dolentini qui. Wow! I fruttini questi qui, tutti, berri oreo. Prendiamo gli oreo. Gli oreo frantumati che io li amo. Ecco qui. Ragazzi, è tutto qui. Ci fanno anche una frutta speciale per me. Siete benvenuti all'inizio. Ci vediamo a pagare. O kartacom. TVAậy che sono stai. Qui prema? Siete benvenuti o no. E. Ready? Certo. Bo JON irm II seguito è 5€. Autore degli oreo di 25. Orate. Signante. Horlowato. io amo il pistacchio però vi consiglio il classico neanche maniglia vi consiglio il classico che è quello proprio greco ho dimenticato di chiedere la mia signora che noi salchiamo un destino e doneremo sì sì doneremo perché tantoline veramente buono all'inizio da buonanotte e buonanotte